Buongiorno a tutti, buongiorno e scusate per il ritardo per le lezioni che questa mattina sono cominciate diciamo con un po' più di tranquillità e rilassatezza dato che ci troviamo in un ambiente molto molto gradevole e siamo un po' in ritardo ma tempereremo subito a tutto in ritardo con questa lezione che praticamente riguarda un'introduzione all'aridocultura e una classificazione un po' degli ambienti che troviamo nell'area mediterranea e anche un po' più lontano e soprattutto questa è l'introduzione a quelle che poi saranno le lezioni specifiche che seguiranno oggi con Angelo Passalacqua. Si parte un po' da un planisfero dove è interessante notare che quella che viene chiamata maccia mediterranea si trova sì è vero lungo il perimetro interno del Mediterraneo ma si trova una formazione simile quindi con specie simili ma diverse in altri ambienti del mondo e cioè la California che sto mostrando in questo momento, in nord del Cile, l'estrema punta meridionale del Sud Africa e due regioni sempre meridionali dell'Australia. Bene, un esempio per capire perché esistono questi ambienti della maccia mediterranea in altre parti del mondo perché lì ci sono delle condizioni di clima molto simili alle nostre ed è interessante di questa caratteristica se ne sono accorti già da parecchio tempo perché in quelle stesse aree del mondo sono i luoghi più interessanti per la coltivazione e per la produzione della vite e dell'ulivo. Quindi vite e ulivo possono essere coltivati con successo negli stessi ambienti che hanno caratteristiche della nostra maccia mediterranea ma che si trovano in posti molto molto più lontani. Andiamo ancora avanti. Maccia mediterranea bassa, alta e quant'altro. La maccia mediterranea dicevamo ieri è fatta da piante sempreverdi per la maggior parte ma a volte secondo degli ambienti può essere fatta anche da piante sempreverdi miste a caducifoglie. Se la maccia mediterranea si sposta un po' più in alto o il versante è un po' più umido comincia a crescere all'interno della maccia la roverella e in certi ambienti la roverella rimane a forma di arbusto però perde le foglie. Quindi non c'è una definizione proprio precisa precisa. Di solito la maggior parte della composizione di queste piante della maccia mediterranea sono piante sempreverdi. Queste piante sempreverdi sono quelle piante che in ambiente mediterraneo richiamano un po' le piante delle foreste tropicali che sono sempreverdi tutto l'anno. Solo che da noi le dimensioni di queste piante sono ridotte perché l'ambiente è arido si ha sì una certa temperatura ma si ha minore, molto minore, molto minore la quantità di acqua. Quindi le piante cosa hanno fatto? Hanno conservato le foglie, le foglie sono diventate più spesse, più coriacee, più dure, a volte piccole come questo che mostro in questo momento si chiama alaterno, alaterno o rhamnus alaternus. È una pianta della famiglia delle rhamnacee e ha delle foglie molto 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 piccole. Tra l'altro è interessante anche notare che le foglie piccole di queste dimensioni sono simili anche a quello dell'olivastro, dell'olivo selvatico e anche altre specie. Tendono ad avere sempre dimensioni molto simili a questa, sia come forma, come struttura e sia come grandezza. Quindi foglie piccole per ridurre l'evapotraspirazione. Poi ci sono altre piante invece che si sono organizzate in modo differente, come questo qui, che è il terebinto. Però il terebinto è anche questo qui, è una pianta di quelle che perde le foglie. Il suo parente stretto è il lentisco, ma il lentisco è un cespuglio di forma rotondeggiante, non perde le foglie, molto simile a questo qui con la stessa struttura fogliare. Invece il terebinto perde le foglie e questa volta anziché avere delle piccole foglie uniche, ha una foglia che si chiama composta. Cioè questa che tengo in mano è un'intera foglia, anche questa è un'intera foglia. Solo che qua la furbata è stata quella di fare una foglia composta da tante piccole foglie. E guardate le dimensioni sono molto 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 simili. Anche l'entisco stesso ha dimensioni simili a queste. Significa che nel corso dell'adattamento di queste piante in ambienti così difficili questa era la soluzione migliore. Cosa significa tutto questo? Che le nostre piante da ortaggi, le nostre piante coltivate con quelle foglie enormi e grandi perdono quantitativi d'acqua di conseguenza molto grandi e quindi hanno difficoltà a crescere in determinati ambienti come quelli della macchia mediterranea. Diventa bassa, dicevamo, se il substrato è basso. Scusate gioco di parole ma a volte uso questi giochi per far capire perché la pianta è ancorata sempre al suolo e si dà per scontato il suolo. Il suolo invece è importantissimo, è uno dei fattori che comincia a dettare poi tutte le altre condizioni. Quindi se il suolo e lo strato è basso o quasi nullo come le rocce, come le rocce dove ci sono le rocce affioranti, allora come qui nella foto a destra o a sinistra, questa che mostro in questo momento, la macchia di conseguenza non potrà crescere molto. Ma cosa succede? Non c'è fretta perché quelle piante sulle rocce affioranti anche con degli arbusti bassi comunque cominciano a produrre substrato e cominciano a fare tutte quelle cose di cui abbiamo parlato in questi giorni, cominciano a fare humus, fanno l'autopacciamatura si potrebbe chiamare. Tutte le loro foglie, i loro rametti, più gli animali e più tutti gli organismi che rimangono morti al suolo e si decompongono e vengono decomposti e trasformati creano un accumulo di suolo. Quindi la macchia mediterranea in ambiente naturale senza problemi di clima e senza disturbi, disturbi mi riferisco a incendi principalmente, tenderà ad avere un substrato più alto, più spesso e poi a crescere, anche le piante diventeranno più grandi. Si tende ad avere sempre dimensioni maggiori delle piante perché hanno le condizioni migliori. Dove il substrato lo è già di per sé abbastanza spesso, le piante della macchia mediterranea arrivano a diventare alberi. Il leccio stesso è un albero, ma in certe situazioni si comporta da arbusto. Arbusto significa 4-5 metri, albero significa 15-20 metri. Sembrano due specie diverse e separate ma sono la stessa specie e così tante altre. A parte i cespugli, a parte gli arbusti specifici come il lentisco o la laterno che sono cespugli e restano sempre cespugli. Ci sono delle piante della macchia mediterranea che in tempi passati, storici quindi, erano stati osservati degli esemplari di corbezzolo per esempio, in forma arborea. Il corbezzolo oggi esiste solo come un arbusto ma in realtà in condizioni ottimali e senza disturbo diventa un albero. Infatti a me ha sorpreso moltissimo quando ho scoperto che già il corbezzolo greco, e qui c'è il corbezzolo che si chiama Arbutus Unedo, poi c'è il corbezzolo greco che già è un po' più grande, può arrivare anche a 10 metri, e poi c'è un corbezzolo che cresce sulle coste del Pacifico, praticamente sopra la parte qua superiore della California, tra la California e l'Oregon, da queste parti, un corbezzolo che arriva a 40 metri, non ho trovato neanche foto su internet, ma si chiama Arbutus Menziesi, da Menzies, che era un esploratore ed è uno dei primi che ha classificato e ha scoperto e ha portato tante specie dal Nord America. Quindi un corbezzolo che arriva a 40 metri, sicuramente è qualcosa di molto particolare. Macchia mediterranea diciamo di varie forme, ma tutto dipende dal substrato. Vediamo un po' questi componenti che sono più da vicino, ne abbiamo già trovati tanti in questi giorni, ne abbiamo raccolto dei campioni come questi, e lì ci sono delle immagini di altri campioni che non abbiamo trovato qua intorno. Allora, il primo in alto a sinistra è l'erica, eccola qui, eccola qui l'erica, l'erica arborea. L'erica arborea è un arbusto sempre verde, altra caratteristica interessante di questa pianta, che è riuscita in un qualche modo a ottenere delle foglie piccole come gli aghi delle conifere, corti e piccoli, sembrano quasi aghi, sembra la solita problematica, ridurre l'erica arborea. L'erica arborea cresce più o meno nell'appennino intorno ai 6-700 metri, quindi è quella parte della macchia mediterranea che arriva più in alto, arriva a spingersi fino nelle cerrete diradate, nelle cerrete molto aperte, dove c'è molto sole, sono tutte piante che hanno bisogno di luce diretta. Queste qui tollerano proprio pochissimo l'ombreggiatura. Dicevo, l'erica arborea ha un legno così duro e così particolare, tanto che l'arbusto continua a crescere, a vegetare in superficie, anche se viene interessata da tagli o da incendi, la radice, la parte inferiore non muore, si rigenera, come molte piante della macchia mediterranea, ma non solo si rigenera ma in grossa, forma una specie di cipolla, arriva anche a dimensioni considerevoli come 50-60 cm di diametro, una grossa cipolla di legno durissima che dopo opportune lavorazioni serviva e serve per farne le pipe. E c'era in molti ambienti dell'appennino, c'erano delle attività che scavavano i pastori, spesso quando avevano tempo, avevano molto tempo, scavavano queste grosse radiche di erica per poi lavorarle o venderle o lavorarle parzialmente per la produzione di pipe. Il lentisco, se viene inciso produce un mastice, una resina che può avere moltissimi usi, non mi soffermo su tutti gli usi ma vi posso solo dire che siccome diffusa questa pianta sulle isole del mare Egeo, oltre che da noi, tanto è la stessa ambiente mediterraneo, c'è un'isola che si chiama Isola di Chio, vicino alla Turchia ma di proprietà della Grecia, dove questo mastice per secoli veniva prodotto su quest'isola e si chiamava Mastice di Chio, aveva molte applicazioni ma non ricordo neanche bene quante erano tutte quante. Lentisco, che poi tra l'altro il lentisco si chiama Pistacia Lentiscus, il Terebinto, Pistacia Terebintus, il Pistaccio, Pistacia Vera, hanno dato dei nomi semplici semplici, anche se sono in latino perché avevamo tralasciato di dire, per la quantità di argomenti che ci sarebbe bisogno di trattare, avevo tralasciato di dire la denominazione delle piante fatta con nome latino perché la prima classificazione che è stata fatta dall'Inneo nel 1700 l'ha fatta con la lingua più diffusa allora, era come l'inglese adesso, la lingua dei dotti era il latino, quindi la classificazione in latino in quel momento significava mettere pace e ordine ai nomi delle piante perché ogni nome, ogni piante, ogni luogo aveva nomi diversi e si creava una confusione immensa, immaginate quando c'erano i trasporti commerci, con bravi che so, Mastici e di Chio, potevano vendere qualche altra cosa perché tanto non c'era la definizione precisa e univoca che diceva che Mastici e di Chio doveva essere Pistaccio e Lentiscus, poteva essere anche qualche altra cosa. E succedevano frodi, problemi di quant'altro. L'Inneo ha avuto questa grande idea di classificare tutte le piante che ha trovato in giro per il mondo, lui e i suoi discepoli e dargli una denominazione latina con un genere e una specie, nome e cognome sarebbe presto a poco, come il nostro nome e cognome. Il genere Pistaccia si scrive con la P grande, Lentiscus con la L piccola. Poi se c'è una varietà, nel Pistaccio non la conosco ma nel Melo, Malus communis, il Melo, varietà Renetta, che è la Renetta quella che noi mangiamo perché Malus communis poi avrà migliaia di varietà. E ci sono le varietà, ci sono le sottospecie, le cultivar, c'è un ventaglio infinito di altre variazioni da quella specie. Ma questo è importante, l'ho tirato in mezzo questa definizione perché quando si va a comprare una pianta, se trovate l'etichetta con il nome della pianta in latino, specialmente per le piante ornamentali, avete un prodotto con maggiore garanzia. Perché altrimenti si rischia che con il nome comune, il nome in italiano, si può avere anche una cosa per un'altra. Quindi il nome latino diffuso in tutto il mondo, approvato da tutti e non crea nessun problema di confusione. Altra pianta, invece questa volta un po' diversa. Siccome vorrei introdurre piante della macchia mediterranea nel mio campo, volevo sapere quanto fosse semplice riprodurle, se puoi dirci come si riproduce. Ah sì, allora lentisco da ricarborea per seme. La riproduzione può anche avvenire per talea, però è complicata perché ci sarebbe bisogno di ormoni e poi nebulizzazione. In una situazione controllata come alcune serre di alcuni vivai ci riescono, però poi le piante non sono neanche tanto resistenti perché moltiplicare un rametto significa avere un apparato radicale più superficiale. Non è la pianta nata da seme che fa il famoso fittone e si infila a un metro e mezzo di profondità in pochi anni. Quindi la situazione migliore è partire da seme. E ci sono diversi problemi, ma si possono tutti risolvere perché come dicevo al primo giorno niente è impossibile in questo campo. L'ericarborea ha dei semi piccolissimi. Dopo la fioritura, dopo qualche settimana dalla fioritura, si deve osservare questa pianta quando comincerà dai semi, dalle capsule fiorali, si vedono dei semi che sono piccoli piccoli come una polverina. Sembra polvere, sembrano solo piccolissimi frammenti di fiore, ma in realtà ci sono anche i semi. E vanno seminati in superficie, non devono essere interrati, sono piccolissimi e quindi basta lasciarli in superficie. Per l'erica ci vuole un terreno con pH tendenzialmente acido. I terreni rossi che stanno qua in Puglia, di norma, se non c'è troppo calcare, di norma vanno benissimo. Lentisco, anche questo da seme. I vivai della forestale le fanno tutte da seme queste piante. Solo che a volte vengono dei problemi perché il lentisco intorno ai semi ha un tegumento, una polpa. Qui abbiamo il terebinto con un po' di semi e questa parte rossa deve macerare e deve consumarsi. Quando la polpa che sta intorno si è consumata ed è macerata, significa che sono passate tutte le condizioni di tempo necessarie per far germinare il seme. Per accelerare il processo i semi si prendono e si puliscono. Se sono piccoli quantitativi, a mano, grattandoli, pulendo. Innanzitutto devono essere ben maturi, così quando sono maturi si schiacciano facilmente, la parte interna è dura, non si schiaccia e si ripulisce tutta la polpa, tutto ciò che sta all'esterno di questi semi. E così pulendoli si accelera il processo. Poi vanno seminati prima possibile, appena sono giungi a maturazione, raccolti, puliti e seminati. Altrimenti per molte piante, non solo della marcia mediterranea, succede il problema della dormienza del seme. Cioè il seme va in quiescenza, si mette a dormire, tra virgolette, e potrebbe germinare anche dopo due anni. E quindi richiede tempi un po' più lunghi. Però non è difficile. Io ci ho provato con alcuni di queste piantine, un cassettino, un piccolo cassettino di plastica con del terriccio per fiori, miscelato a terriccio rosso, questo che si trova in natura, in una percentuale del 60% terriccio naturale rosso e 40% terriccio per fiori più o meno. Le piantine nascono e vanno bene. Però se si fa nel cassettino poi c'è un altro problema, che si devono trapiantare queste piantine entro il primo anno o in un altro vaso oppure in piena terra. Però quando si vanno a tirare dal cassettino la radice è nuda e le piante rischiano di morire. È un po' più complesso, ma si può fare anche un'altra strategia. Prendere un cassettino di plastica, metterci del terreno sotto e intorno, poi metterci dei vasetti all'interno del cassettino. E poi in ogni vasetto si mettono due o tre semi. Così fai un vivaio in un vivaio. Perché se tu prendi i vasetti e li metti ad uno ad uno per terra da qualche parte, si asciugano nel giro di 3-4 ore. Quando fa caldo c'è un po' di vento. Quindi questi semi stenteranno moltissimo a nascere. Bisogna creare un ambiente dove l'umidità rimanga costante quanto più possibile. Però riescono a nascere. Il primo anno alcune di queste piante sono lente, ma dal secondo al terzo anno partono con grande velocità. A seconda delle specie. Il lentisco è sempre lento perché è un cespuglio che arriva a tre metri dopo tanti anni. Però è una grande soddisfazione poterlo moltiplicare perché è una bella pianta. Come le altre, a proposito, visto che mi siete del lentisco. L'altra pianta che abbiamo qua sotto, un po' diversa da tutto il contesto, questa volta, è l'euforbia arborea. L'euforbia è una pianta della famiglia delle euforbiacee. Sono quelle piante che quando vengono incise emanano del lattice, scende del lattice come i fichi. Solo che le euforbiacee vivono in Africa per la maggior parte. Invece questa qui è l'unica che vive da noi. E la sua strategia particolarissima è quella di perdere le foglie non quando fa freddo, ma quando fa caldo. Quindi si spoglia in estate, come le piante di certi ambienti aridi dell'Africa. L'euforbiacea arriva anche a tre metri di altezza e ha un'altra caratteristica. Questa va a crescere in ambienti della maccia mediterranea molto degradata. Se c'è l'euforbia significa che il disturbo è stato molto pesante ed è stato protratto per molto tempo, perché dopo l'euforbia non è più maccia mediterranea. Se si continua a disturbare quell'ambiente non si riesce ad andare avanti, verso l'euforbia verso la maccia, ma si va indietro, verso la gariga, che vedremo un po' più avanti. Un'altra pianta invece anche interessante e aromatica ha altra caratteristica. Le piante della maccia mediterranea spesso sono aromatiche. Aromatiche perché? Perché per loro è naturale avere una difesa fatta di reside o oli all'interno delle foglie. Resine oppure oli all'interno delle foglie a noi dà un bel profumo. Mi riferisco al mirto o al rosmarino o alla salvia, ma per le piante invece serve a non perdere acqua in modo eccessivo. Questa resina, quest'olio e quant'altro serve come protezione. Solo che c'è un grosso problema che questi oli essenziali, queste resine, sono facilmente infiammabili. Ecco perché la maccia mediterranea spesso e volentieri è soggetta a incendi ed è difficile anche spegnerli, specialmente se le piante sono molto vicine, perché bruciano con estrema facilità per le sostanze contenute in esse. Ancora l'olivastro. Per il mirto si può riprodurre per talea, come il rosmarino e la salvia. Si riproduce per talea, quindi si può prendere un rametto e piantarlo, anche se non abbiamo il famoso fittone, però comunque si arrangia lo stesso, perché tra l'altro il rosmarino non diventa un grosso cespuglio, neanche il mirto diventa un grosso cespuglio e se l'ambiente è idoneo riesce ad andare bene, anche con una riproduzione fatta per talea. Talea significa prendere dei rametti da 10, 15, 20 centimetri al massimo e interrarli metà sotto, metà fuori, più o meno, in un terreno morbido, uno strato di terriccio morbido, sempre miscelando un po' di terriccio, magari quello di composto comprato, e un po' di terriccio naturale. Un buon drenaggio, altra cosa che avevo dimenticato, un buon drenaggio sul fondo del vostro cassettino, del vostro piccolo vivaio, perché sono piante che non tollerano il ristagno idrico, cioè significa che non sopportano l'acqua che rimane troppo a lungo al contatto delle radici. Sono specializzate a resistere al caldo, ma purtroppo non sono specializzate a resistere all'acqua che rimane sulle radici, potrebbe portare marciumi, mori, quindi la pianta è secca. Spero di essere stato chiaro. Quando si prende la talea del mirto? Allora, mirto orientativamente in un ambiente caldo come questo si può cominciare già da adesso, anche ottobre, novembre. Dipende, quanto più è caldo l'ambiente, tanto più bisogna cominciare prima. Per esempio il rosmarino va bene in questo periodo, ma anche le rose, però non per tutti, perché l'oleandro, altra pianta di ambiente mediterraneo che qui non c'è, l'oleandro va moltiplicato a luglio, in piena estate, e in quel periodo, in quel momento che c'è tanto calore, riesce a radicare, tenendolo in un vaso con un po' di umidità, però il substrato deve essere sempre, anche se mettete un solo rametto, guardate che il vasetto sia piuttosto grandicello, perché i vasetti troppo piccoli, sì sono facili da spostare, ma si disidratano velocemente. E tenere l'acqua nel sottovaso non è una buona pratica d'estate, perché l'acqua diventa calda, tiepita e provoca marciumi a chi sta sopra, quindi l'acqua deve avere e deve andare giù, poi magari la mettete da parte e la si riutilizza per innaffiare, perché poi le piante in vaso hanno anche un altro problema, che i nutrienti vengono dilavati ogni volta che si innaffia, avete notato che spesso l'acqua che esce sotto è torbida, quella torbidità è dovuta proprio ai nutrienti che vengono dilavati, quindi metterla da parte e ridagliela quando ne ha bisogno, almeno gli ricicli i nutrienti e non li butti. Quindi drenaggio è importantissimo. L'altra pianta che va moltiplicata invece in primavera, primavera potrebbe essere marzo per le zone più calde, aprile per quelle un po' più fresche, calde significa la fascia degli agrumi, un po' più fresche la fascia dove sono le roverelle e il leccio. Sono le due fasce che avevamo visto all'inizio, che in Puglia ci sono tutte e due e sono ampiamente diffuse. L'olivastro invece, anche questo va moltiplicato in primavera, per talea, si può fare anche questo per talea, anche se l'olivastro da seme ha una buona capacità di rigenerazione come anche il mirto, anche il mirto da seme nasce bene, solo che i semi sono piccolissimi, forma delle bacche grosse come delle palline un po' più grosse di un chicco di pepe per intenderci. Se viene schiacciato all'interno ci sono 3, 4, 5, 6 semi e se pianti tutta la pallina nasceranno tutti questi semi insieme, quindi poi è necessario diradare le piantine, si possono anche lasciarle tutte vicino, tanto loro vanno in competizione, la piantina nata dal seme che ha la caratteristica genetica di essere più forte, più veloce nella crescita, più capace di assorbire subito i nutrienti, quella crescerà. Le altre prima deperiscono, poi magari seccano o restano più piccole. È interessante questo perché se proverete a mettere dei semi, anche più semi, ma della stessa specie in un vasetto, noterete che quel ciuffo di piantine che cominciano a crescere si comportano come un piccolo cespuglio, anche se sono individui unici, quelli laterali o quelli più deboli restano in basso, quelli centrali di solito o quelli più forti vanno in alto, quindi si forma un cespuglio a cupola. Lì cominciano a comportarsi chi come albero e chi come ramo. Con un po' di attenzione si possono separare, si possono recuperare più piantine, questo era il trucco di tutto, perché se le piantine sono nate significa che già hanno grandi interessi a crescere e con un po' di accortezza significa separarle delicatamente, non far spezzare le radici, ripiantarle subito in un vaso e non allagarle troppo di acqua, per recuperare un numero maggiore di individui, di piantine. Poi dicevamo il mirto, ah il mirto ce n'è anche una varietà a bacche bianche, mi sa che proprio quella è in figura se i frutti non sono acerbi, perché il mirto le bacche sono bluastro nero, nero bluastro, però c'è una varietà a frutti bianchi, quasi bianchi, giallo molto chiaro chiaro chiaro. E poi del mirto ci sono anche delle varietà con le foglie molto ricce, molto chiuse, molto compatte per farne arbusti più folti, quindi ci sono diverse varietà. Poi, sempre dopo, sì? Ce l'ho col mirto sotto un olivo e quello prima di me che mi ha venduto il terreno, lui lo tagliava sempre. Proprio la terra. Sì, e quello ricacciava. Non è male come pratica? No, 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 perché sotto l'olivo c'è il problema delle reti o della raccolta delle olive, se cresce un arbusto di mirto darà un bel po' di problemi quando si devono raccogliere le olive, però sarebbe per esempio consigliabile, se vuoi salvare capre e cavoli come si suol dire, allevare un rametto di mirto da tutti quelli che sono usciti, il più dritto, il più bello, il più forte, e farne un piccolo alberello, in modo che sotto hai sempre la possibilità di passare, mettere le reti e tenere pulito. Così un alberello sotto l'olivo significa un alberello di un metro e mezzo, piccolino, rotondeggiante, puoi anche arrotondare, puoi anche controllare con un po' di potatura se tende a diventare grande, ma si può allevare come piccolo alberello. Certo. Ok, grazie. Prego. Questo è interessante, come tutte le altre domande che vengono fuori, perché? Perché si può trovare sempre un'armonia, una via, una strada per permettere a tutte e due di vivere senza accanirsi per forza all'eliminazione completa di una specie. In alcuni casi ci sono possibilità, non è sempre necessario sterminare tutto e pulire tutto, in alcuni casi si può convivere o far convivere le piante. L'ultima pianta di queste immagini è l'orniello. Questo è un frassino. Si chiama frassino minore, giusto, frassino minore e in ambienti idonei, quindi un po' più in alto sull'appennino, se c'è umidità e quant'altro. Diventa un albero. Ma nella macchia mediterranea della parte più alta, questa pianta questa è una parte più alta, tra l'altro è come la roverella per delle foglie, è un arbusto, quindi 3-4 metri. Tanto è un arbusto che viene utilizzato per farne paletti per i fagioli o per le recinzioni, perché produce dei fusti dritti, lunghi e longilini, sottili e un materiale abbastanza resistente. Un'altra curiosità che a me è piaciuta tanto quando l'ho scoperta è che i frassini, sia l'orniello sia gli altri frassini più grandi, hanno un legname ottimo, elastico, durevole e tanto che se ne erano accorti già molti popoli del Nord America che costruivano gli archi, l'arco che scagliava le frecce con legname di frassino. Dove non c'era il frassino americano recuperavano un'altra pianta che si chiama maclura, che qualcuno mi aveva chiesto qualche giorno fa. La maclura è una pianta degli Stati Uniti che pure è un legname molto flessibile, anche se secca questo legname dopo averlo tagliato rimane ancora flessibile, tanto che oggi alcuni attrezzi sportivi tipo mazze da baseball, stecche da biliardo e quant'altro viene fatta principalmente con legno di frassini, per questa durezza e questa flessibilità e questa resistenza che hanno. Una piccolissima parentesi che vorrei sottolineare, questa parentesi sul fatto che spesso in Italia meridionale si insiste a fare rimboschimenti o piandagioni ultimamente con noce e ciliegio, sono fissati con noce e ciliegio in ambienti assurdi dove queste piandagioni non daranno mai legname neanche di minima quantità utile, neanche per recuperare i soldi che ci hanno spesso per piantarli. Ci sono i finanziamenti per fare questo, però se pianti noce e ciliegio. Io dico questo perché ho trovato dei clienti e delle persone che mi hanno chiesto il perché i loro noci e i loro ciliegi non crescevano e perché erano stati messi in ambienti assurdi dove c'era sfissia radicale, dove il terreno non era idoneo e dopo molti consigli, dopo due, tre anni che gli ho ripetuto di mettere i frassini, un po' di coccio lo erano ma poi alla fine hanno cominciato a mettere i frassini. Qualcuno, non è che conosco tanta gente, però quel qualcuno che ha messo i frassini ha detto, ah ma lo sai che sta pianta cresce proprio bene? Il frassino specifico per i rimboschimenti, per farne legname in Italia meridionale su suoli aridi, asciutti o paludosi, pensate un po', dai suoli asciutti e aridi fino a quelli paludosi, è il frassino meridionale. Questo è frassino da manna o frassino minore, sto parlando di un altro, il frassino meridionale, si chiama Fraxinus angustifolia o Fraxinus oxicarpa, comunque si chiama frassino meridionale. Ha la foglia molto simile agli altri, però il frassino maggiore cresce nel nord Europa e in pochissime stazioni dell'Appennino e ha la gemma nera. Questo qui, l'orniello, oltre ad essere più piccolo, ha la gemma grigia, le gemme sono grigie ma proprio facili da vedere. Il frassino meridionale ha la gemma marrone, quindi nero, grigio e marrone e ambienti molto diversi. È una pianta ottima perché ha anche un certo valore. Certamente il valore del legname è un po' inferiore al noce e ciliegio, ma cosa scegli? Mettere noce e ciliegio con dei finanziamenti e non ottenere niente? Oppure magari, spero sia di sprono per qualche istituzione, mettere noce e ciliegio, lasciar perdere noce e ciliegio, scusate, mettere il frassino e ottenere delle piante che arrivano a dimensioni enormi. Ne esistono alcuni in Basilicata che hanno il tronco di un metro e mezzo di diametro, cioè come le roverelle, sempre con un legname di buona qualità. Microfono per favore. Non solo se si poteva aggiungere qualche altra informazione su esigenze. Dei frassini? Sì. Allora, l'orniello cresce su suoli ben drenati. Ben drenati se c'è pendenza è l'ideale, quindi rocce in pendenza, scarpate e quant'altro. Anche zone pianeggianti, ma sempre se c'è il buon drenaggio sotto, l'orniello, piccole dimensioni, si riproducono tutti facilmente per seme. Il seme di queste piante matura a fine estate, diciamo settembre, indicativamente ottobre, a seconda delle zone, si riproducono facilmente e velocemente e hanno già una buona crescita in vivaio nei primi anni anche di 30, 50, 60 centimetri il primo anno, che è tanto. Poi il frassino meridionale ha questa plasticità ecologica. si dice. Plasticità ecologica significa che è una pianta che si adatta ad ambienti veramente differenti. In alcuni punti nelle fiumare in Basilicata cresce lungo i bordi degli argini dei fiumi, nelle fiumare sulla ghiaia, dove non passa più l'acqua da decenni. Lì il drenaggio è massimo, ma non ci sono neanche nutrienti, perché è sabbia di lavata e gli alberi vanno bene, crescono un po' più piano. Se sono messi in ambienti più umidi, sono più veloci, ma crescono con le stesse caratteristiche, le stesse qualità. Frassino meridionale o Fraxinus angustifolia. Angustifolia perché la foglia è angusta, è piccola. I frassini hanno una foglia composta. Composta significa come questa, da un'asse centrale tante foglioline da una parte all'altra. Ogni fogliolina è piccola ed è seghettata, quella del frassino meridionale. Quindi in natura abbiamo di tutto, bisogna solo saper scegliere, come quando si va in supermercato e scegliamo ciò che ci occorre. Un attimo, c'è una domanda davanti? Dimmi. Si può innestare qualcosa sull'orniello? Sull'orniello si innesta una varietà di orniello che produce ancora di più la manna. Era venuto fuori prima tra le righe. C'è questo frassino, se gli viene incisa la corteccia produce un essudato, una linfa che a contatto con l'ario coagula. Coagulando questa linfa può essere raccolta e conservata e lavorata. È la famosa manna che viene ancora prodotta in alcune aree limitate della Sicilia. Non tutti gli ornielli ne producono tanta, ma ci sono delle varietà, mi hanno detto, che sono un po' più ricche di produzione di manna. Poi sugli altri frassini possono essere innestati le varietà ornamentali. Per esempio, voglio un frassino maggiore. Il frassino maggiore è enorme, non cresce nel sud Italia. Però esiste la varietà pendula, con i rami che scendono tutti verso il basso come salice pendulo. Può essere innestato sull'orniello e rimarrà piccolo. Oppure sul frassino meridionale, ancora meglio, che diventerà anche abbastanza grandicello, però basso perché è una pianta con forma pendula. Poi ci sono i frassini con le foglie gialle, con i fusti dorati, con una sola foglia. Io dicevo che le foglie sono composte, ma esistono anche frassini che hanno una sola foglia grande grande. Sono delle varietà ornamentali e bisogna mantenersi sempre all'interno del genere fraxinus. Sembra un po' incredibile, ma il genere fraxinus fa parte della grande famiglia delle oleacee. Quindi questa pianta è parente, è un cugino degli ulivi e della fililea. Però l'ulivo, innestarlo là sopra, non conosco. Io ho sentito parlare di qualcuno che... Hai innestato l'ulivo? Sì, non ho mai visto, però ho sentito parlare. Sì, ti dico, è della stessa grande famiglia, oleacee. Tecnicamente qualche possibilità c'è, però magari con qualche accortezza, qualche tecnica... Può darsi pure, durerà poco tempo. Sì, spesso l'innesto non è un entusiasmo immediato, dice attecchito, sta andando. Poi magari dopo un po' di tempo può esserci del rigetto, anche dopo qualche anno, oppure una strozzatura. Cioè i tessuti non si saldano in modo perfetto, restano sempre separati, un colpo di vento e stacca tutto. Quindi l'orniello e siamo qua. Eccole qua, altre piante, tra cui un'altra pianta molto bella, anche se non è bella la foto. Questa al centro, eccola qui. Questa al centro, la quercia da sughero. Altra pianta della maccia mediterranea. Solo che questa pianta in Italia è diffusa maggiormente sul versante tirrenico e in Sardegna. Versante tirrenico perché è più piovoso. È una pianta che vuole un substrato piuttosto profondo, se possibile. Si arrangia anche se il substrato è basso, però se il terreno è troppo sottile poi la crescita sarà stentata e limitata. Se il substrato è più profondo, come in queste vallette che si trovano qui tra diversi altopiani delle Puglie, diventerà un grande albero, un grande bellissimo albero. E poi ha questa caratteristica del sughero, che può essere anche utilizzato per piccole lavorazioni. Il sughero, tra l'altro, dagli alberi di quercia del sughero viene estratto ogni 14 anni circa. Quindi lo strato di sughero, spesso anche 15 cm, ogni 14 anni viene estratto. Il primo strato che si toglie quando la pianta ha raggiunto una certa dimensione si chiama sughero maschio perché è tutto corrugato. Questa pianta quando cresce ha una corteccia molto corrugata e quel sughero lì può essere utilizzato per esempio sotto forma di macinato per farne tappi oppure per farne pannelli. Quindi viene triturato, macinato e poi incollato. È in forma delle lastre. Invece il sughero successivo che ha anche uno strato un po' inferiore. Può essere tagliato, immaginate, uno strato di sughero di 15 cm, mi dicevano, può essere tagliato fino a 150 volte. Se ne ottengono delle lamine sottilissime soltanto per farne rivestimenti. Cornici di quadri, scarpe o quant'altro. Sembrano che siano di sughero ma in realtà hanno una lamina sottilissima che li riveste. Oltre che il sughero è un ottimo isolante e anche abbastanza ignifico, quindi non è un materiale facilmente preda del fuoco. Qualcuno mi faceva notare, ma io i tappi di sughero li ho messi nella stufa e bruciano benissimo. Qual è il problema? Perché i tappi di sughero sono incollati con la colla e ciò che bruciava poi era la colla che innescava la combustione. Perché il sughero di per sé non è, insomma, è un materiale, si ama ignifugo, resiste al fuoco. Eccolo qua, un altro albero. Ah, la querce del sughero ha delle ghiande molto simili a quelle del nostro fragno. Spesso sono un po' più lunghe, ma hanno la stessa colorazione. Sono un po' più lunghe, stessa colorazione, e maturano un po' più tardi del fragno, di solito, verso novembre, a seconda degli ambienti. E germinano facilmente. Poi un'altra pianta di cui avevamo già parlato ieri, il carrubo. Questo è indicato adesso dal mouse. Il carrubo, pianta della macchia mediterranea. Non si sa se questa pianta è spontanea o meno. Probabilmente è stata introdotta, si dice, già in epoca romana. Però, essendo pianta della macchia mediterranea, è andata bene. E io tendo a credere che non sia spontanea, perché il carrubo non si rinnova tanto facilmente. Non ho mai visto piantine di carrubo che nascono così, di qua e di là. Raramente si vede qualche giovane piantina di carrubo di qua e di là nella macchia mediterranea. E l'altra cosa particolare è che i carrubi che esistono tuttora in Italia, sono tutte piante messe cento anni fa o più. Quindi quando c'era bisogno di produrre foraggio per i cavalli, le carrube davano energia, zuccherina, e quindi venivano utilizzate. Siccome i cavalli erano gli autotreni e tutti i furgoni che trasportavano le merci in quel periodo, era utile piantare questi alberi perché era una fonte di foraggio. Poi l'albero cresce spontaneo ed è ben diverso coltivare qualche carrubo per avere foraggio, piuttosto che seminare avena, trebbiarla e poi darla ai cavalli. Era molto più complesso. Se c'è domande il microfono, per favore. In Sicilia nel Trapanese crescono un macello di carrubi spontanei. Ti ringrazio per la precisazione perché probabilmente... E anche il frassino... Meridionale. Sì, sì, eccolo là. Infatti sapevo che in Sicilia è ancora coltivato per la manna. Mi fa piacere di questa precisazione perché in realtà non sono stato ancora in quella zona trapanese. Girando invece per le coste della Calabria e del resto del sud Italia, non avevo trovato piantine. Proprio probabilmente perché il carrubo è di ambiente mediterraneo, ma è di un ambiente più caldo rispetto alla Puglia o alla Calabria. Quindi quella zona del Trapanese, che è quella più a sud, l'estremità, scusatemi, a sud ma anche a sud ovest dell'Italia, quella più esposta nel Mediterraneo, ha un clima molto simile probabilmente al luogo d'origine. Il luogo d'origine del carrubo è da assumersi intorno alla Palestina, Israele, quei paesi lì. Probabilmente da lì è venuto. Tanto che il famoso carato, per misurare il valore delle pietre preziose, ha avuto origine dall'arabo, Karat, che era il seme di carrubo. E perché i commercianti arabi usavano il seme di carrubo come sistema di valutazione delle merci, quindi dei beni preziosi, dato che i semi di carrubo hanno la caratteristica di essere molto uniformi, come grandezza, come dimensione e come peso. Quindi era una specie di bilancia di valutazione universale. Allora, se il nome Karat deriva dall'arabo e lo usavano in quei luoghi, è da presumere che li cresceva in abbondanza. Per caso mi puoi dire cos'è, almeno lo chiamano così dalle parti mie da Ceglie, non so se è comune, il falso carrubo? Falso carrubo? Può essere una cosa di Ceglie. Allora, come al solito il nome in italiano cambia da luogo a luogo. L'ho sentito, ma non l'ho mai visto, per cui avrei bisogno di vedere la pianta per capire che cos'è. Se tu di questo falso carrubo mi potessi dire quello che avevo nominato poco fa, per esempio, il nome scientifico ti potrei dire forse cos'è. Ma i nomi locali, vedete, sono impossibili da controllare. Cambiano a volte anche da un paese all'altro, dall'altro alla distanza di 10 chilometri. Mi dispiace non poterti rispondere questa volta, ma spero in un'altra occasione di poter vedere questa pianta. Il carrubo? Ah sì, grazie. Era stato già chiesto e mi fa piacere avere alcune domande che sono chieste fuori dalla diretta. Se le riproponiamo, è bello per chi sta a casa, riprodurre il carrubo. Il carrubo ha una caratteristica. Questi semi, oltre ad essere uniformi, sono rivestiti di un tegumento, una buccia molto dura, molto coriacea. E per germinare questa buccia deve ammorbidirsi. Quindi, ambiente mediterraneo, una buccia dura, non è che si ammorbidisce tanto facilmente. I vivai cosa fanno? Immergono i semi in acqua calda, a 40 gradi, per alcune ore. Che roba del genere per altri semi significava distruggerli. Quindi acqua calda o acqua tiepida. Io li ho immersi anche in acqua fredda, non per alcune ore, ma per 12-24 ore. In modo che i semi si devono imbibire. Un po' come si fa con i fagioli prima di bollirli. E la leguminosa, tra l'altro, molto resistente, va aiutata in questo modo. Quindi i semi vanno fatti ammorbidire. E il substrato, vi raccomando, deve essere sempre ben drenato. L'acqua non deve rimanere ad inzuppare. A volte il drenaggio, io ne parlo tanto di questo drenaggio, perché a volte il drenaggio inganna. Perché a proposito della capacità di ritenzione del suolo, la ritenzione idrica, ci possono essere dei suoli dove l'acqua, si passa e se ne va giù, ma ne rimane anche troppa all'interno delle sue stesse particelle. Già un suolo che ha un drenaggio, ma ha una capacità idrica poi eccessiva. E quindi anche un terreno fatto da humus o da compost, humus no, piuttosto compost, quelli che si comprano per i fiori, spesso tendono a trattenere l'umidità molto a lungo. Non so se avete notato, per esempio, che i fiori d'appartamento, le piante d'appartamento, si bagnano ogni tanto e sembra che restino umidi per periodi molto lunghi. Però poi quando si asciuga quel substrato, non si riesce più a bagnare bene. Addirittura si deve immergere tutto il vaso in una bacinella, perché è diventato secco come la paglia. Quindi il drenaggio... Sì, vai, dimmi. Scusa se intervengo di nuovo, ma volevo dire, per chi non ne fosse a conoscenza, c'è un sito italiano che si chiama Acta Plantarum, che è ottimo. Si fa la foto, possibilmente delle foglie del fusto, eccetera, così, e ci si registra al sito. Sul forum si manda la foto con dei parametri che vogliono loro e nello spazio di, a volte minuti, ore, ti rispondono, ti dicono il nome... Ti classificano la tua specie. Ti classificano tutto, ti dicono se è spontaneo, se non è spontaneo, se... Ok, puoi ripetere per favore il nome del sito? È in latino, Acta Plantarum. Ok, Acta Plantarum. Acta, A-C-T-A, Plantarum. Sì, perfetto, grazie mille. Ancora, dopo la maccia mediterranea, cosa succede? La gariga. Allora, se la maccia mediterranea viene disturbata in modo eccessivo, si ha la gariga. C'è scritto lì, le garighe, sono formazioni gespugliose, discontinue, che si estendono sul suolo involuto. Sembrano termini nuovi, ma sono sempre le stesse storie. C'è il suolo involuto e un suolo senza evoluzione, senza uno strato di humus, senza microorganismi o ce ne sono pochissimi. Insomma, un suolo che comincia ad essere sterile. Di solito ha matrice calcarea, ma possono essere anche di altro tipo. La gariga spesso si può trovare nelle zone costiere, anche pianeggianti dove c'è sabbia. Enorme quantità di luce, quindi l'illuminazione completa durante la giornata e le elevate condizioni anche di temperatura e di aridità. E qua cominciamo ad indentrarci nelle nostre problematiche che affronteremo nei prossimi giorni. È costituito da arbusti bassi e frutici che al massimo raggiungono 1,5 metri oppure inferiori a 50. I frutici sono una classificazione di alcune specie di piante che raggiungono quelle piccole dimensioni lì. Anche se il termine sembra allettante, frutici, ma in realtà sono piante spesso piccole di aspetto un po' disordinato oppure dei bassi cespugli oppure delle piante che hanno delle caratteristiche molto elevate di resistenza a queste condizioni. La gariga spesso si trova dove il retro, la parte retrodunale dove c'è il mare, allora si parte dal mare c'è la duna, di solito c'erano le dune con gialli, fillirea, pistacce e quant'altro se la maccia dunale non esiste la salsedine provvede ad entrare all'interno a distruggere tutto e a formare la gariga. Qualche incendio qua e là e la situazione è fatta. Se notate nella foto, dopo la gariga ci sono degli alberi qua che si vedono appena appena perché spesso poi, per fortuna, la gariga finisce e ricomincia la macchia. Quindi cosa è successo? Che la gariga, questa formazione di piante di ambienti aridissimi si è andata a insediare dove c'era la macchia. L'ha sostituita. Per il sempre solito motivo di disturbo. Oggi ci si aggiungerà anche il problema del clima. Però, insomma, niente è impossibile. Anche la gariga può essere recuperata. Può essere recuperata. Può essere recuperata valutando bene gli elementi di partenza. Insomma, andare a vedere quanto questa gariga è povera, quanto è elevato il drenaggio e quant'altro. Sì, c'è una domanda là dietro. Accendi, per favore. Quello che si forma spesso dopo cioè nei terreni abbandonati è quella gariga che è molto simile però ci sono... Sì, dipende dalle cose... Nella macchia mediterranea è distinto? Cioè nasce comunque la gariga? No, dipende dall'umidità del tuo terreno e dall'esposizione perché a volte un terreno abbandonato evolve velocemente a macchia mediterranea se ci sono le condizioni idonee. La gariga va a formarsi dove il tuo terreno abbandonato è fatto spesso da sabbia o da calcare... da presenza di calcare attivo nel terreno. Quindi è stato dilavato il tuo terreno è stato distrutto di più del campo abbandonato. Il campo abbandonato di solito ancora per quanto venga abbandonato ha delle caratteristiche che permettono la crescita dei cespugli. No, cioè tipo almeno sto guardando un campo che assomiglia molto spesso a quella foto. Ah, attenzione, sì forse cerco di capire. Allora, tu spesso dici io ho un campo abbandonato nei primi anni cresce qualcosa del genere. Ebbene, quelle sono le erbe spontanee che non sono da confondere con la gariga perché queste piante hanno un ciclo più lungo spesso sopportano i periodi avversi sotto forma di tuberi o rizomi o bulbi e quant'altro nascosto nel terreno. Invece nel campo abbandonato non ci sono quelle piante lì a ciclo lungo ma ci sono le piante erbace che nascono e crescono nel giro di qualche stagione e poi col passare del tempo arrivano sempre piante con cicli più lunghi e poi diventeranno arbusti. Lì la situazione è più difficile perché c'è il dilavamento dei nutrienti. Hai presente una spiaggia? Immagina una spiaggia con quelle piante ecco quella è la situazione la spiaggia si sa è ben dilavata salseidine vento sole invece il terreno abbandonato il terreno abbandonato è già un passo in più in positivo è più ricco è più facile intervenire anche se capisco il problema capisco che le piante si assomigliano è un problema. Rispetto alle piante spontanee per esempio che ci sono nel campo a fianco non abbandonato sono diverse sono più cespugliose tutte steppose cioè non c'è più la cicoria per esempio in questo campo abbandonato che da tantissimo tempo è rimasto sempre così non si è mai evoluto potrebbe essere un suolo diverso anche se è di gente e potrebbe essere anche abbandonato in tempi diversi abbandonato dieci anni prima e dieci anni dopo fa una grande differenza anche quattro cinque anni quindi ognuno dei due suoli è in uno stadio diverso di evoluzione di solito la gariga va a insediarsi in ambienti ripeto in ambienti molto difficili gli ex coltivi gli ex campi agrari in condizioni normali non dovrebbero diventare gariga il terreno di cui tu parli mi dici per favore dove si trova? è vicino al bosco comunale di Gravina in Puglia Gravina in Puglia quindi nell'interno ecco già Sal Sedine non ce ne arriva ci potrebbe essere del calcare attivo ecco quello sì potrebbe essere un fattore limitante magari nel tuo terreno c'è troppo calcare attivo terreno di fronte sì e quello può essere il tuo fattore che spinge il tuo terreno a una formazione di tipo gariga e significa soltanto che hai un terreno che ha qualche problema in più ma non è impossibile non è assolutamente sì assolutamente non è una situazione sì anche se può passare da questa parte allora volevo fare una domanda su come si può andare a riforestare una zona cioè insomma comunque cercare di limitare l'effetto della gariga che è una cosa abbastanza complessa dato che siamo sul livello del mare Sal Sedine Avento allora che parte d'Italia? Sicilia? sì Torretta Granitola per esempio torretta Granitola provincia? Trapanese ma zero del valle ok sempre la zona Trapanese molto caldo e avete una situazione di partenza di gariga come questa? penso proprio sì no è un mio amico che sta ah sì ok nella gariga una pianta che può dare una mano alla formazione di suolo e a trattenere i nutrienti sono le graminacee le graminacee di quel tipo dell'anfelodesma o della si chiama anfelodesma tagliamani è una graminacea con delle foglie che se la tiri ti tagli le mani ma non solo quella quella già un po' brutta però produce substrato ed è resistente soprattutto da un aspetto da un aspetto all'ambiente in cui vivi che vai a intervenire che già non è più gariga perché sono sempre verdi quindi hanno ben aspetto e poi ci sono altre graminacee adesso mi sfugge la classificazione che si trovano anche qua in Puglia sono quelle lungo i muretti lungo i muretti i tessetti che stanno nella parte interna della strada appena uscita da questa masseria guarda la strada che arriva qui ha delle graminacee delle piante di graminacee alte anche un metro un metro e quaranta che sono tutte piegate rivolte verso il centro della strada beh quelle graminacee là poterle diffondere in un ambiente del genere è un passo in più sicuramente si va ad attaccare il consiglio con le graminacee graminacee perenni dopo di che bisogna intervenire con piante che vanno a sostituire perché diventano infestantissime allora se la superficie non è molto grande si potrebbe approntare un allevamento di queste piantine in vasetto con tutto il pane di terra se non è molto grande e poi andarle a inserire nel periodo idoneo che di solito corrisponde alla metà dell'autunno quando c'è la possibilità di avere qualche pioggia così tu le pianti e si innaffiano e quindi con queste graminacee hai già un miglioramento dell'aspetto oltre che della produzione di humus poi le piante vanno avanti da sole se la situazione non è molto critica queste graminacee vanno a sostituire la gariga un po' alla volta diventa un grosso prato di erbe alte questo sarebbe l'obiettivo da raggiungere un prato di erbe alte pressoché più o meno sempre verdi e dove queste piante ti continuano a produrre substrato trattenere maggiore quantità di umidità e rilasciare sostanza organica la possibilità c'è sempre queste due piante mi sono venute in mente ma nella famiglia delle graminacee c'è una possibilità enorme di trovare piante il consiglio è di trovare piante che sono degli ambienti limitrofi ma le graminacee noi avevamo pensato di mettere tamerice tamerice sì ok sì però le tamerici le tamerici allora con le tamerici si può fare una cosa si possono mettere per talea in questo periodo appena cadono le foglie metti dei rametti e poi però per fare qualcosa di diciamo ottimale devi fare dei rametti lunghi dritti come un'asta anche un metro e devono andare 80-90 cm sotto e 10-20 cm sopra per assicurare un quantitativo minimo di umidità la tamerici comincerà a radicare già da dicembre subito dopo averla infilata anche se sopra non si vede niente con la tamerice sì puoi produrre gli arbusti può essere anche un'altra pianta molto interessante perché no la tamerice c'era sfuggita perché guardavo un po' gli ambienti più vicini a questa masseria e non l'avevo considerata ma è molto molto interessante per ambienti difficili come questo era venuta fuori tra le foto dei giorni precedenti ma non l'avevamo considerata l'ambiente del genere proprio perché ancora non ne stavamo parlando tamerice ce ne sono principalmente due specie che circolano per l'Italia tra spontanee coltivate semispontanee e sono molto belle anche per i fiori quindi le tamerici sì sono piante da utilizzare in ambienti estremi solo che tendono spesso tendono se l'ambiente è molto arido tendono a non formare una cappa molto chiusa tendono a essere un po' si tendono a essere alte e con i rami molto distanti quindi non ombreggiano completamente il suolo l'ideale sarebbe provare con questo e quello un po' di questo e un po' di quello un po' di tamerici e un po' di graminace e poi avere pazienza pazienza anni pazienza perché la tamerici ha un ciclo lungo quando la tamerici ha formato uno strato sufficiente là dentro si potrebbe andare a inserire il nostro famoso lentisco la filirea e la laterno la filirea è una pianta della famiglia sempre delle oleacee e ha una foglia molto simile a questa della laterno ed è anche a volte complicato distinguerle però ci potete riuscire perché la laterno ha spesso questi rami nerastri vedete la corteccia è grigio scura la filirea no è più chiara a meno che non c'è inquinamento in quella zona e si è coperto pure quella poi la filirea produce delle piccole bacche che ricordano molto le olive se li schiacci tingono sporcano come le olive e ha una forma è un po' difficile perché sono molto molto simili però io purtroppo lo distingo con l'esperienza ma da lontano anche per me potrebbe essere un problema da vicino le foglie della filirea sono seghettate ecco questo è un carattere univoco la filirea ha foglie seghettate la laterno ce l'ha lisce poi la filirea ce ne sono almeno due specie l'angustifolia e la latifolia tutte e due le specie l'angustifolia e la latifolia le foglie si distinguono perché sono più corte come queste sono più lunghe ma sono sempre seghettate quindi foglie piccole lisce seghettate potrebbe essere filirea foglie invece con i margini lisci di questo tipo potrebbe essere la laterno sì le bacche non sono commestibili sono piuttosto tossiche sì dimmi aiuto quelle piante che chiamavamo margheritoni che non sono poi delle margherite che diventano molto alte gialle molto molto infestanti solitamente in suoli pietrosi credo se sono degli indicatori particolari perché sono anche quelle piante se ho intuito quello di cui mi stai parlando dovrebbe essere l'inula viscosa o la cepitoni fa dei fiori gialli e puzza e allora è quella cepitoni o inula viscosa si trova anche qua intorno dove ci troviamo sì quella pianda lì è un indicatore di colonizzazione dalla fase di piante erbace prepara la fase arbustiva nell'interno dell'appennino un campo di grano abbandonato nei primi anni comincia a crescere tante erbacee di vario tipo con qualche cardo a seconda dell'esposizione poi arriva questa pianta qua la cepitoni e poi arrivano le ginestre tempo di tutto questo variabile a seconda dove ci troviamo perché se ci sono delle ginestre che liberano semi lì vicino le ginestre possono arrivare anche in concomitanza con l'inula viscosa se non ci sono ginestre possono stare 10-15 anni ma sono sempre tempi lunghi per noi e limitati per la natura per accelerare questo andare a piantare tu la ginestra seminarla la ginestra può essere seminata rascando anche la superficie del terreno con le scarpe con i piedi giusto smuovi un po' e la lasci cadere sul terreno rimosso con una scarpa se la semini alla rinfusa anche va bene però immaginare che se un seme di ginestra cade all'interno di un ciuffo di graminacea non tocca il suolo rimane all'interno di questo ciuffo di pianta di graminacea quindi non può germinare ha bisogno del contatto con il suolo in un campo abbandonato basta passare fare una passeggiata smuovere un po' terreno con i piedi e mettere qualche semi e andare avanti si dissemina velocemente si semina già in questo periodo anzi si può disseminare subito dopo la raccolta matura i semi più o meno tra luglio e agosto a seconda delle zone o addirittura giugno nelle zone più calde e appena questi semi li puoi già mettere lì così se beccano qualche pioggia anche questi sono leguminosi hanno bisogno di ammorbidirsi cominciano già ad ammorbidirsi poi l'umidità si rimane costante nel suolo permette la germinazione praticamente la ginestra si dissemina in estate comincia a germinare in autunno e in primavera ha già formato una piantina con il solito apparato radicale lungo, profondo e ben radicato da noi va a colonizzare gli ambienti più estremi dalle fiumare ai calanchi purché non ci sia di lavamento nel substrato perché se no va tutto giù vado a seminare la ginestra e aspetta ancora 8 anni seminare la ginestra e aspetti più o meno 8 anni dipende del posto in cui ti trovi se sei nel centro Italia situazioni più fresche forse anche 6 anni dipende quando queste ginestra hanno fatto dei bei grandi cespugli e hanno ricoperto quanto più possibile il tuo terreno attenzione la ginestra diffonde velocemente il fuoco però prepara il substrato alle querce accelerare ancora di più come si può fare? se vado a cipare tutto velocemente se vai a cipare tutto accelera o no? no non va bene perché torni indietro perché se tu vai a cipare tutto la ginestra ricaccia vigorosamente e va in concorrenza con le piantine di quercia allora invece la natura fa questo fa crescere le piantine di quercia o leccio ma spesso roverella dentro le ginestre perché la piantina all'interno della ginestra ci cresce sotto forma anche che ha una specie di protezione dal vento dalla distrazione poi quella è una leguminosa quindi l'aiuta e la protegge quando la quercia sbuca di sopra della ginestra la ginestra morirà perché ha finito il suo ciclo accelerare significherebbe mettere le ginestre e andarcele a seminare le ghiande dopo 4-5 anni e vedere un po' la ginestra si ha un po' sono un po' la pubblicità di altro eh sì microfono sì per favore sì dicevamo la ginestra se viene tagliata si rigenera invece se la si lascia crescere si disperde poi dissecca non ha una vita lunghissima una pianta di ginestra in natura vive mediamente 25 anni presso a poco che è poco rispetto alla roverella che ne vive 500-600 o più però prepara prepara tanto accelerare significa andare a metterci tu i semi senza aspettare quando le condizioni più o meno sono idonee microfono per favore c'è anche una domanda dietro sì vai 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 ah sì no io volevo chiedere cioè sapevo che a volte viene utilizzata la cicerchia su suoli poveri da recuperare sì volevo chiedere in che ambienti può essere allora la cicerchia può essere utilizzata in ambienti aridi dalla macchia mediterranea bassa fino ad arrivare all'interno dell'appennino ha solo una problematica che la cicerchia come tutte le piante erbacee ti dà una buona copertura durante la primavera fino alla fine del suo ciclo poi secca e ti scopre tutto e allora se tu vai a intervenire con arbusti sempre verdi tipo la solita ginestra che abbiamo detto poco fa ti dà una copertura e quindi un mantenimento costante più lungo nel tempo della solita nostra problematica che è l'umidità che va via dal suolo va bene sicuramente andrebbe bene però se non si vogliono proprio coltivare le cicerchie per uso alimentare e vuoi trasformare il tuo terreno diciamo degradato in qualcos'altro converebbe sì partire anche con delle cicerchie ma mettere anche degli arbusti che poi tra l'altro se vuoi far crescere la cicerchia hai un substrato dove puoi mettere già qualche altra cosa tipo lentisco o mirto o rosmarino spero di essere stato chiaro e c'è qualche domanda avanti? se potete spostarlo avanti il microfono c'è una varietà di cicerchia di ginestra americana si chiama che cresce anche sulla sila più di mille metri è infestante ha delle radici profondissime la chiamano americana dicono che è arrivata nel Dover non lo so mi sorprende questa cosa perché ci sono stato sulla sila ma non l'ho notata certamente non l'ho girata tutta in mezzo ai castagni in mezzo ai castagni ah ok io sì ho visto la parte più sopra tra i pini non la conosco questa specie certamente se diventa infestante poi diventa un problema quando si diffonde su ampie superfici ma c'è da considerare che se sono superfici degradate quella pianta lì va a colonizzare non rimane per sempre quello che potrebbe essere un problema che mi viene in mente molto simile alla tua domanda una conseguenza è quella della sostituzione delle specie locali fatta dalle specie introdotte questa ginestra se veramente americana probabilmente sta crescendo al posto di qualche altra pianta dell'ambiente calabro in cui è stata inserita questo può essere un problema perché significa poi perdita della biodiversità locale sì è un problema in quel caso probabilmente andrebbe cippata o ricoperta di altre piante che la ombreggiano e quindi ne limitano la diffusione quando ragazzi quando a volte le piante può succedere e sono casi estremi ma possono capitare queste situazioni in cui le piante tendono a sostituire le specie locali anche in quel caso è richiesto il nostro famoso intervento fatto con oculatezza e con attenzione si dice con cognizione di causa cioè devi sapere cosa cavolo stai facendo non si può fare un progetto a tavolino in un ufficio e poi si va lì con un trattore e si ara tutto con un escavatore e si dissoda tutto perché probabilmente anche sotto quella ginestra ci saranno le orchidee e andarci con un trattore significa poi stravolgere tutto il resto e bisogna avere pazienza le soluzioni in natura ci sono ripeto sempre ma non sono veloci e immediate la natura è un complesso enorme con i suoi tempi lunghi le piante vanno contenute di problemi di questo tipo ce ne sono tanti io so per esempio da informazioni di vario tipo che Sud America Peru principalmente ha perso e sta perdendo una grande parte una grande fetta della sua vegetazione spontanea pensate pensate un po' per l'introduzione degli eucalipti dall'Australia questa piante che stava in Australia in Peru non ci doveva manca crescere invece no ha trovato delle condizioni idonee a volte anche migliori di quelle dell'Australia e queste piante si riproducono crescono dappertutto a discapito delle specie locali che non sono non sono così competitive con degli alieni in questo caso si chiamano alieni le specie introdotte che diventano molto forti allora sempre il nostro caro intervento oculato queste piante si possono sì lasciare crescere produrne biomassa non dargli il tempo di fare i semi non fanno i semi oggi non fanno i semi domani la pianta si estingue perché non è che poi ricaccia sempre così facilmente sì a volte rigetta anche dalla ceppaia pure la ginestra se viene tagliata ricaccia ma la cosa è fargli liberare i semi i semi e la cosa invece è lasciarla crescere solo un anno che non fa in tempo a liberare i semi tagliarla di nuovo e farne biomassa e intanto ti allevi le tue piantine che hai messo qua e là sì infatti ci andavamo col piccone perché era proprio in profondità ah no no estirparla è un lavoraccio da pazzo Gianluca si diverte col glifosato ma lo so che scherza andiamo avanti la gariga una piccola scheda di questa gariga di come è composta come è fatta guardate un po' allora prima di tutto parto da sotto perché è più semplice e più immediato intuire macchia mediterranea degradata distrutta scombinata rovinata disturbata due o tre incendi bastano due o tre incendi in dieci anni non è che ci vuole molto diventa subito gariga gariga due o tre incendi in cinque anni in certi ambienti difficili diventa steppa da noi sembra strano perché la steppa dovrebbe essere dovrebbe trovarsi nelle pianure dell'Asia centrale invece no comincia a comparire già comparsa anche in alcuni ambienti mediterranei è una forma di degradazione involutiva artificiosa ma comunque è un'involuzione che va e va in quella direzione senza pietà se non si interviene e poi alla fine eccolo qua il nostro problema deserto qualche incendio ragazzi spesso anche aiutato questo incendio da qualche busta di plastica che viene lasciata nei campi abbandonati così da un po' di combustione in più scusa io ne sono scusami un attimo ne sono afflitto quando arrivo presso le grandi città del sud Italia e trovo questi campi abbandonati sempre bruciati c'è un biglietto da visita deprimente ha voglia che poi la città è bella e c'è i monumenti ma arrivare a queste città ti deprime in un modo assurdo e questi campi che sono alle periferie delle città sono quelli proprio più importanti da tutelare sono davanti alla città dovrebbero farti la fotosintese per tutte le macchine che ciclano in città le macchine non le possiamo togliere ma almeno mettiamoci degli alberi delle piante qualche cosa di verde che non sia di plastica e invece no si lasciano andare in questa direzione si aspetta magari che poi arriva una lottizzazione e ti faccia diventare anche il deserto qualcosa da vendere a caro prezzo ma non avviene sempre questo anche se ci fosse poi la lottizzazione e quant'altro si va bene che ben venga se ce n'è bisogno ma intanto facciamo fotosintesi facciamo biomassa che è di quello di cui abbiamo bisogno subito l'ossigeno vi ricordate i primi giorni è il primo fattore fondamentale per cui stiamo sulla terra grazie all'ossigeno perché producono le piante e non è vero che le piante ce ne sono tante finché possiamo respirare ce ne ha sufficienza non è vero perché l'impatto di 7 miliardi di individui più gli allevamenti di questi individui comincia ad avere problemi perché se le piante che stanno sulla terra comprese la biomassa di alghe che stanno nel mare spesso le alghe galleggianti che pure loro assorbono l'anidride carbonica se queste fossero state capaci di assorbire tutte l'anidride carbonica che abbiamo prodotto dalla rivoluzione industriale ad oggi non ci sarebbe stato l'effetto serra è un ragionamento per bambini facendo 2 più 2 perché c'è l'effetto serra perché si è accumulata se si è accumulata significa che chi doveva smaltire non ce l'ha fatta noi siamo 70 persone se ognuno di noi pensavo dietro queste lezioni se ognuno di noi avesse ipoteticamente un ettaro di terreno abbandonato degradato qualunque sia la situazione non fa niente se ognuno di noi avesse un ettaro diventerebbero 70 ettari di maccia mediterranea o bosco e cavoli se non fanno la differenza 70 ettari di bosco e 70 ettari di gariga o steppa sembrano pochi ma lo fanno ne fanno tantissimo perché sono tante piccole gocce che poi fanno la differenza microfono per favore se no non si per chi ci segue Gianluca scusami per chi ci segue non si capisce da dove arriva la sì la voce la voce che cosa c'è come diciamo abbiamo ognuno un ettaro abbandonato e vogliamo fare miglioramento miglioramento il bosco oppure ti ringrazio gran bella domanda bisogna valutare la tua situazione a che stadio adesso non ho finito la domanda scusami c'è domande lunghe è che sembra la deformazione a reddito due o tre domande in una vai vai per capire bene dove praticamente se questo ettaro che sta qui lo vuole rinverdire non solo per dare l'ossigeno gratis agli altri ma abbellire il posto ma qualcosa che sia al contempo una produzione comunque variata al di là dei che ne so dei frutteti che proprio ci prende per esempio le piante selvatiche piuttosto che piante officinale non so qualcosa che comunque dacci un'indicazione su cosa sarebbe tipo i fichi d'India per esempio vanno a rabbellire però ci puoi raccogliere le fichi d'India e hanno anche un bel prezzo qualche input su questa direzione certo allora la risposta si era molto simile a quella da cui ero partito bisogna vedere la tua situazione di partenza in che stadio sta e dipende noi cosa vogliamo ricavare se siamo propensi a fare oli essenziali piante della macchia mediterranea che hanno oli e resine resine e oli essenziali quindi piante tipo il rosmarino il mirto la salvia e quelle lì se invece vogliamo averne un'autosufficienza solo per noi di questo famoso ettaro indicativo se ne può ritagliare uno o due porzioni di mille metri duemila metri quadrati un ettaro di diecimila metri quadrati ritagliarne mille o duemila o anche tre mila significa prendere un pezzettino per farne ortaggi per noi sembra a seconda della situazione quindi ortaggi il resto macchia mediterranea o bosco e si può fare anche di più si può fare mille metri con gli ortaggi mille con i fichi d'india mille con gli oli essenziali dipende dalla nostra inclinazione dalla nostra intuizione di quale sia la possibilità di ricavare reddito a proposito del fico d'india io so che in Sicilia e spero non dico sciocchezze perché qualcuno può confermare o smentire in Sicilia il fico d'india appena emette i primi frutti anzi le prime fiorescenze vengono tolte in modo che si stimola la pianta a ricacciarli una seconda volta quei frutti che ricaccia una seconda volta matureranno qualche mese più tardi qualche mese più tardi si mi confermate che sia quella la soluzione qualche mese più tardi significa portare dei frutti sul mercato nel periodo di Natale e non so se ci avete fatto caso a Natale spesso si vedono li chiamiamo da noi appalagiano fichi d'india San Giovanni perché nel periodo di giugno che c'è la ricorrenza di San Giovanni si va a fare questa operazione di togliervi quanto sono piccoli quindi con la stessa pianta si può avere una doppia o dublice attitudine a seconda del periodo in cui noi vogliamo raccogliere frutti e venderli poi lo stesso fico d'india vedo che appena uscito sul mercato o in periodi particolari come Natale a un certo prezzo non è diciamo un frutto da costi risori questo secondo me non sarebbe una cattiva idea se tu ci preparassi un ipotetico ettaro proprio composto in questo modo qui tenendo conto anche se uno vuole farci gli ortaggi della rotazione tu mi chiedi un po' di tutto e anche qualcosa di soldi esatto esatto cioè farcelo farcelo proprio anche col consiglio magari come sepatura le piante officinali le piante da essenza se ti do delle indicazioni durante queste lezioni te le dovrei dare molto in generale una volta che le vai applicare sul tuo terreno ti potrei dire un'enorme quantità di sciacchia devo vedere ho capito devo pagare la consulenza vai ho pagato la consulenza scherzi a parte avrai la garanzia maggiore però la possiamo fare un'ipotetica soluzione la possiamo fare perché è molto simile a quell'operazione che ho fatto da me quindi spostando le mie piante stiamo tutti a trovare se venite mi fa piacere e l'invito rivolto a tutti anche chi sta a casa e se si spostano le piante insomma del pre-appennino dove sto io a quelle della fascia più calda dell'arancio e del carrubo ancora meglio perché qua si possono inserire dei carrubi a proposito di questo c'era una scheda nei giorni precedenti dove avevo messo un numero un quantitativo specifico di piante per ogni specie e mi fa piacere che qualcuno mi diceva che faceva la conferma di quella lista diceva sì tre agrumi ce l'ho due meli ce l'ho tre peri ce l'ho e così via è un'idea ma va bene si può fare se abbiamo un po' di tempo possiamo anche provare a buttare giù degli appunti allora tempo tempo per la pausa ok ci fermiamo per la pausa di 15 minuti perché abbiamo perso un po' di tempo stamattina 15 minuti e poi ci vediamo dopo un po' di tempo